L'idea di fondo era quella di costruire una struttura che non avesse bisogno di energia esterna per sopravvivere in qualche modo, che fosse autosufficiente. Questo era il sogno, diciamo così, l'idea di partenza su cui abbiamo lavorato. Un'idea che dobbiamo abbattere i consumi, che dobbiamo costruire un business più leggero dal punto di vista dei costi e anche più sostenibile dal punto di vista dell'impatto delle persone, dell'impatto dell'ambiente. Un'architettura di grande impatto, ispirata ad un futuro sostenibile e alle esperienze internazionali del gruppo. Il nuovo edificio traccia, insieme allo storico Villoresi Ovest, un ponte ideale tra il passato e il futuro di Autogrill, all'insegna dell'armonia con l'ambiente e dell'integrazione con il territorio circostante. Il nuovo Villoresi. Un esempio di grande architettura, che si erge suggestivamente a forma di vulcano, svettando fino all'altezza di oltre 27 metri. Ma sono soprattutto le avanzate soluzioni impiantistiche a rendere eccezionale questa struttura in termini di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico. Un pezzo di futuro a disposizione di tutti. Il nuovo Villoresi è anche un laboratorio di innovazione nell'interior design, un'esperienza pionieristica di abbattimento delle barriere, un vero e proprio modello di accessibilità per tutti. L'analisi accurata dei bisogni dei viaggiatori, condotta in collaborazione con l'associazione Design for All, ha orientato la progettazione di percorsi e servizi perfettamente in linea con ogni tipo di esigenza. Il nuovo Villoresi. L'autogrill del terzo millennio. Un luogo in cui tradizione ed evoluzione, esigenze dell'ambiente, dei viaggiatori e risposte ai nuovi stili di consumo si sposano in modo armonico. È un progetto temerario e quasi visionario visto oggi. È un progetto però che ha un orizzonte lungo, è un progetto fatto per restare trent'anni. Io penso che dia anche un significato simbolico, il fatto che Autogrill vuole comunque essere un importante player, credere nel futuro di questo business e ha in qualche modo testato e costruito un sogno, una visione. Accoglienza, passione, innovazione. Questi sono i valori cui si ispira Autogrill, un gruppo da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni proiettate al domani. Nuovo Autogrill Villoresi. Quando la destinazione del viaggio è il futuro.